Allora, sono qui perché voglio parlarvi un po' della mia esperienza di community management a Airbnb e come ha detto Mare, in particolar modo di come il lavoro sulla community ha dato un contributo molto significante per il successo proprio del business. Voglio iniziare dalla definizione di che cos'è una community, so che tutti voi ovviamente sapete che cos'è una community ma mi sembra utile ricordare un po' la definizione. La community è un gruppo di simili che condividi gli stessi valori e si rinuisce attorno a un obiettivo comune. Nel caso di Airbnb quali sono i valori che condivide la nostra community? Se conoscete un po' il nostro brand, i valori della community di Airbnb coincidono esattamente con i valori di cui si fa portavoce il brand e che vengono poi rappresentati dal logo, che noi chiamiamo Belo, che è stato proprio costruito per rappresentare i valori del brand. La mission di Airbnb, forse qualcuno di voi lo sa, è quella di costruire un mondo in cui tutti si sentono a casa, tutti si sentono accettati. E quindi di fatto i valori di cui il brand si fa portavoce e che condividono poi tutti i membri della community sono poi i valori di inclusione, accettazione, accoglienza, ospitalità. Queste due foto che vi faccio vedere sono secondo me molto significative perché ci sono state inviate da un host che come vedete abita in una zona un po' rurale degli Stati Uniti e che lui prova una tale condivisione dei valori di Airbnb che ha deciso di costruire questi Belo di metallo e di appenderli all'entrata della sua proprietà proprio a presentazione, qui abita un membro della community di Airbnb quindi è un esempio molto chiaro di come tramite la condivisione di valori si crei un forte senso di appartenenza al brand. Quando abbiamo deciso anni fa, io ho iniziato a lavorare per Airbnb sette anni fa quindi non all'inizio però diciamo l'azienda era ancora piuttosto piccola anni fa abbiamo iniziato a lavorare sulla costruzione della community di Airbnb avevamo due possibili approcci il community management online e il community management offline entrambi questi approcci sono assolutamente validi e ciascuno ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi quali sono i vantaggi di un approccio di community management online? ovviamente è un tipo di strategia su larga scala quando costruiamo una community online possiamo raccogliere membri di tutto il mondo e i membri possono cominciare a interagire in maniera immediata le interazioni sono facili, sono ricorrenti per l'azienda ha bisogno di un tipo di costi molto molto ridotto gestire una community online è una cosa che si può fare senza grandi risorse costruire una community offline invece è molto più dispendioso per l'azienda perché presuppone creare occasioni di incontro tra i membri offline e quindi vada a sé che è anche un tipo di strategia su scala più ridotta non possiamo creare community offline in ogni angolo del mondo e le interazioni tra i membri sono meno immediate quindi per entrare in contatto tra di loro le persone devono recarsi in un luogo e conoscersi durante gli anni Airbnb ha adottato tutti e due tipi di community management ma quando abbiamo sentito l'esigenza anni fa di iniziare proprio a costruire la community abbiamo deciso di investire totalmente nella community in un modello di community management offline perché l'abbiamo fatto? anzitutto perché Airbnb come alcune società per Airbnb la community è il prodotto stesso gli host di case, quindi i membri della nostra community non sono gli utenti a cui noi ci rivolgiamo per vendere un prodotto o un servizio sono il nostro prodotto sono il modo con cui il business si regge e cresce è vero che Airbnb è un sito, è un'app ma la piattaforma è una parte assolutamente marginale di quello che è il vero prodotto dell'azienda che è la community senza la community non esisterebbe il business e quindi va da sé che l'investimento sulla community è molto giustificato perché investire sulla community equivale a investire sul prodotto stesso del business dunque quando ci si incontra, si crea una community online e ci si incontra online ci sono diversi tipi di interazione ci sono persone che sono più attive in una community online e persone meno attive però di fatto quando ci si incontra offline i membri hanno un senso di appartenenza alla community più forte soprattutto quando le interazioni offline sono ripetute perché i membri della community quando si incontrano offline creano dei rapporti forti tra di loro, molto forti che investono tutti i campi della loro sfera personale si creano dei rapporti di amicizia le persone cominciano a frequentarsi anche al di fuori delle occasioni create dall'azienda di incontro e quindi il senso di appartenenza alla community quando avviene offline è più forte e perché è così importante per noi creare un forte senso di appartenenza alla community? perché quando ci si sente fortemente integrati all'interno di una community l'engagement aumenta l'engagement è l'amore che si prova per un brand quando una persona ama un brand a tal punto da diventarne un evangelista ed è la metrica, forse una delle metriche più importanti per un business per un brand, creare engagement perché? Perché l'engagement rafforza il business lo fa crescere avere una community di persone che hanno un forte senso di appartenenza e un altissimo senso di engagement di amore verso il brand di fatto porta il brand al successo ora vi faccio alcuni esempi di come una community che ha un forte senso di engagement ha di fatto portato, ha aiutato Airbnb ad avere successo anzitutto tramite il passaparola forse lo sapete ma per Airbnb che si è espansa molto velocemente in pochi anni in tutto il mondo il driver numero uno della crescita dell'azienda è stato il passaparola quindi è stata una crescita organica spontanea ed è stata unicamente affidata dal livello di engagement degli host quindi banalmente io sono un esempio vivente perché ero host nel 2010 gli host amavano talmente tanto il brand di Airbnb che naturalmente hanno iniziato a parlarne ad amici, parenti e in questo modo hanno aiutato la conoscenza del brand ha aumentato la supply quindi il numero di host che volevano affittare una casa con Airbnb ha aumentato la domanda e di fatto poi ha aumentato le prenotazioni che sono l'entrata del business la peer-to-peer education quando gli host si incontrano interagiscono tra loro si frequentano e fanno parte di una community molto forte di fatto si danno dritte si rispondono a delle domande si scambiano informazioni e questo ha due grandi vantaggi per il business avere una supply di qualità migliore host più informati sono host migliori in grado di ospitare meglio i loro viaggiatori e quindi di offrire un servizio migliore recensioni migliori eccetera e l'altro grande vantaggio è che gli host scambiandosi informazioni e rispondendosi l'uno alle domande degli altri hanno ridotto il contact rate il contact rate è la percentuale di ticket di assistenza clienti che viene creata per ogni prenotazione per Airbnb l'assistenza clienti forse come per altre società è il costo maggiore ha un costo enorme quindi avere un'incidenza sul contact rate presuppone un risparmio notevole per l'azienda nel 2016 abbiamo fatto un test per misurare qual era l'impatto positivo sul contact rate da parte del community management cosa abbiamo fatto? abbiamo preso un gruppo di host in tutto il mondo e li abbiamo esclusi da qualsiasi tipo di iniziativa di community non li abbiamo invitati a nessun evento non li abbiamo mandato nessuna newsletter non li abbiamo invitati ai webinar li abbiamo ignorati e abbiamo studiato dopo un anno in che modo il comportamento di questi host era diverso dal comportamento degli host che invece erano esposti alle nostre iniziative di community sul contact rate abbiamo visto che c'era un'incidenza dell'1,5% che vi può sembrare una percentuale molto bassa ma vi farò poi vedere che in realtà su equivale a migliaia di ticket che hanno portato un enorme risparmio per l'azienda l'aiuto reciproco gli host che appunto fanno parte della stessa community si aiutano in caso di imprevisti il lavoro dell'host è un lavoro difficilissimo non so se qualcuno di voi è un host sì, qualcuno lo è e sapete che insomma dovete conciliare il lavoro di host con la vostra vita quindi quante volte può capitare un host che proprio il giorno in cui aspetta i suoi ospiti gli capita un imprevisto e non può più stare a casa oppure salta la corrente oppure si rompe lo scaldabagno gli ospiti non sono più in grado di stare a casa sua tutte queste cose accadono molto frequentemente e questo tipo di imprevisti è uno dei motivi per cui alcuni host a un certo punto decidono di disattivare il loro annuncio noi lo chiamiamo churn ed è la percentuale di supply di host che a un certo punto della loro vita decidono di smettere di fare gli host ovviamente l'azienda ha tutto l'interesse nel ridurre questo churn rate e abbiamo visto sempre in base a questo esperimento che abbiamo fatto nel 2016 che gli host che fanno parte di una community hanno meno probabilità di disattivare il loro annuncio rispetto agli host che invece non fanno parte di una community perché? perché se ho un imprevisto per il check-in chiedo a un altro host e viene lui e me lo fa lui se mi salta lo scaldabagno ho un altro host che può per una notte ospitare i miei ospiti quindi il sostegno riduce la fatica degli host e quindi li incoraggia a continuare ad ospitare e infine la condivisione di storie quando si forma una community gli host condividono le loro storie per noi questo è una fonte di informazioni importantissima sia a livello di marketing ma soprattutto perché nel corso degli anni Airbnb si è impegnata tanto e continua ad impegnarsi nella creazione di campagne politiche che portino alla creazione di leggi a favore dell'home sharing e avere un gruppo forte, solido di community members che vogliono condividere le loro storie con i giornalisti organizzando campagne politiche ovviamente è un'efficacia molto maggiore rispetto a un'azienda che dialoga con le istituzioni quando è la community stessa a organizzare le campagne il messaggio arriva senz'altro amplificato questi sono un po' i risultati che vi mostro dell'esperimento che abbiamo fatto nel 2016 quello in cui abbiamo appunto escluso un gruppo di host da qualsiasi tipo di iniziativa di community e abbiamo quantificato in denaro qual è stato diciamo il valore nel business e soprattutto tramite l'aumento delle notti prenotate quindi l'aumento della supply l'aumento della domanda e la riduzione dei ticket abbiamo visto che in un anno abbiamo risparmiato più di 3 milioni e mezzo di dollari ma tutto questo non sarebbe possibile se Airbnb non facesse qualcosa per la community e in generale è impensabile creare una forte community a sostegno di un business se la community stessa non ricevesse nessun valore nessun vantaggio quindi è importante che ci sia sempre una reciprocità noi chiediamo tanto alla nostra community e la community fa tanto per noi dobbiamo assicurarci che anche noi come brand facciamo tanto per la community ma di che cosa ha bisogno una community? questi sono un po' i bisogni che noi abbiamo elencato che hanno i nostri i membri della nostra community gli host di Airbnb hanno bisogno di sentirsi ascoltati valutati apprezzati hanno bisogno di supporto per le loro iniziative se un host vuole organizzare degli eventi per conoscere altri host attorno a lui ha bisogno di tool per invitarli ha bisogno di un budget per organizzare questi eventi vogliono essere aggiornati su dove sta andando il business di Airbnb quali sono le prossime tappe di Airbnb che cosa state facendo cosa ci dobbiamo aspettare e vogliono essere trattati come partner vogliono essere inclusi in questi piani non vogliono essere semplicemente informati hanno bisogno di assistenza quando hanno bisogno di aiuto ma alla fine hanno bisogno di essere soprattutto di avere successo come host cioè devono guadagnare devono ricevere soddisfazioni secondo i loro obiettivi e questa è una serie di strategie che noi abbiamo adoperato nel corso degli anni per soddisfare i bisogni della nostra community quindi appunto sentirsi ascoltati mandiamo esiste un team in Airbnb che si chiama Love Team che si occupa di festeggiare gli host al raggiungimento di alcuni milestone quindi sei host da un anno hai raggiunto 100 prenotazioni gli mandiamo dei regali a casa li sorprendiamo in questo modo li invitiamo ai nostri uffici nei nostri uffici di San Francisco gli mandiamo dei coupon facciamo degli incontri individuali con loro eccetera ma soprattutto una cosa che facciamo e che loro apprezzano enormemente cerchiamo di includerli per quanto possibile nelle decisioni dell'azienda quindi trattarli veramente come partner recentemente una cosa che abbiamo fatto nel settore delle esperienze di cui mi sto occupando io adesso è stiamo costruendo le prossime politiche di cancellazione per il settore delle esperienze abbiamo mandato una mail a tutti i nostri host di esperienze dicendo voi come le vorreste le politiche di cancellazione perché ancora non le abbiamo fatte diteci la vostra e questa cosa è stata enormemente apprezzata alcuni host mi hanno detto ma come una grande azienda come Airbnb chiede a me come voglio fare le politiche di cancellazione e questa è la cosa che forse il membro di una community può apprezzare di più l'inclusione cioè non siamo separati non prendi tu le decisioni e poi mi informi ma le prendiamo insieme siamo veramente parte della stessa community questo è uno strumento che noi abbiamo usato molto e si può personalizzare ovviamente se voi non lo conoscete è la commitment curve è una curva che gradualmente a scalare segna tutte le tappe dell'engagement di un membro di una community e tutte le cose che noi chiediamo a questo membro della community da fai parte della nostra community cioè entra a far parte della community partecipa a un evento iscriviti a questo gruppo fino a diventa un leader guida una campagna politica a nome della community e in mezzo ci sono tante cose tante tappe intermedie e queste sono tutti gli ask tutte le cose che noi chiediamo ai nostri community members ai membri della nostra community di fare per l'azienda perché è uno strumento utile perché ad ogni ask che noi facciamo ai membri della community c'è qualcosa che noi dobbiamo dargli ci deve essere sempre reciprocità e quindi sull'altro lato scriviamo tutto quello che il brand l'azienda può e deve fare per la community che deve essere proporzionato al livello di coinvolgimento che il community member ha quindi più gli chiedo e più gli devo dare ora vi faccio qualche esempio di strategie che abbiamo usato durante gli anni per parlare un po' di tre tappe di community building la prima la prima fase che è creare la community creare la prima che ci serva creare la prima ancora di andare dalla community e chiedergli di appunto rappresentare il brand o di fare qualcosa per il brand e quindi vediamo un attimo vi racconto un secondo proprio la strategia di community meetups che abbiamo fatto offline dopo che abbiamo creato la community è importante mantenerla viva quindi dare continuità al lavoro di community management non abbandonarla ma visto che è impossibile per un community manager o per un'azienda continuare all'infinito a lavorare sulla crescita della community vi parlerò del modello che abbiamo adottato che si chiama snowflake model e dell'individuazione dei community leader che sono membri della community che di fatto hanno iniziato ad agire come community manager per conto nostro ma allo stesso tempo per non perdere il contatto diretto tra il brand e la community anche quando abbiamo iniziato a affidarci ai community leader abbiamo continuato comunque ad organizzare eventi da parte di Airbnb per incontrare direttamente Airbnb e i membri della community e infine un brevissimo accenno all'Airbnb Open che è un evento di portata globale che in tre diverse edizioni ha riunito gli host di tutto il mondo dunque gli eventi offline all'inizio li abbiamo organizzati come vi dicevo in alcune città del mondo avevamo dei community manager che in alcune città ha scelto ovviamente sull'importanza nel business cioè le città in cui c'era una community di host maggiore organizzavano eventi ne organizzavano uno di tipo social al mese semplicemente per mettere in contatto gli host tra di loro e otto eventi mensili di tipo educational quindi per aiutare gli host a diventare degli host migliori la conversione era altissima all'inizio era sul 40% che vuol dire il 40% degli host di Airbnb in queste città partecipava a questi incontri offline ed è un tipo di una percentuale che oggi noi di Airbnb non riusciremmo a raggiungere se facessimo degli eventi offline perché perché all'inizio proprio all'inizio quando non esiste una community la necessità di entrare in contatto con altri host e di uscire quindi dall'isolamento è molto alta oggi invece è molto facile conoscere altri host Airbnb e quindi diciamo che l'efficacia dei meetup offline sarebbe inferiore ma diciamo che non potevamo continuare così troppo a lungo perché secondo questo modello non potevamo essere presenti in tutto il mondo c'erano tante parti del mondo in cui non potevamo andare e quindi abbiamo lanciato questa iniziativa dell'open breakfast durante una grande convention in cui sono venuti host da tutto il mondo abbiamo chiesto agli host di offrirsi volontari per aprire la loro casa a una colazione a cui noi avremmo invitato gli host del loro quartiere per farli conoscere così in un'unica giornata sono state organizzate in maniera spontanea 50 colazioni in tutto il mondo a costo zero per Airbnb e queste 50 colazioni sono state l'inizio di 50 community perché le persone poi hanno continuato a restare in contatto e a crescere così abbiamo individuato alcuni community leader host di Airbnb che volevano costruire la community e conoscere host attorno a loro abbiamo fatto un piccolo identikit del community leader quindi un host di successo una persona che ha del tempo libero non necessariamente una persona estroversa anzi spesso i migliori community leader sono persone introverse ed è una persona che mette gli interessi comuni davanti ai loro interessi in questo modo abbiamo creato questo snowflake model il community manager non faceva più eventi ma semplicemente individuava nel suo territorio quindi il community manager di Tokyo viaggiava per il Giappone individuava community leader nelle altre città giapponesi li formava e di fatto poi i community leader organizzavano eventi offline nelle loro città in questo modo siamo riusciti ad avere una scala maggiore sui nostri sulle nostre iniziative queste sono alcune foto di eventi organizzati dai nostri community leader ma per mantenere il contatto con la community Airbnb ha continuato a fare grandi eventi annuali questi sono Yost Days e sono eventi che abbiamo fatto in 12 città del mondo eventi di una giornata per celebrare la community incontrarla dare aggiornamenti fargli conoscere insomma il team di Airbnb per cercare appunto di mantenere comunque il contatto tra l'azienda e la community mentre l'Airbnb Open è un evento globale che abbiamo fatto in tre edizioni nel 2014 15 e 16 ed è un evento che invita gli host di tutto il mondo a riunirsi in una città per tre giorni di keynote festeggiamenti spettacoli workshop eccetera eccetera nel 2016 hanno partecipato 5.000 host mille ospiti e mille impiegati gli obiettivi dell'Airbnb Open sono quelli veramente di aumentare l'engagement ispirare gli host farli sentire parte di un movimento riconosciuto da tutto il mondo farli sentire parte di qualcosa di veramente molto grande informarli sulle prossime iniziative di Airbnb e ovviamente metterli in contatto tra di loro a dispetto delle distanze geografiche io ho finito prima di andare via per farvi capire che cos'è l'Airbnb Open vi faccio vedere un video di 30 secondi che è il video di invito all'ultima edizione dell'Open se non fa niente c'è della TAS pensarà bello questo video no si è proprio disconnessi eh ma non va bene non fa niente dai Mara grazie Caterina ci sono domande grazie 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 a tutti Grazie.